E' Jay Porte, l'avvocato, gli ha dato il porto a c'è lui. Jay! 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 Sono io, Artus! Che tavolo ha preso tutti quei piatti? Dalla tavola calda! Mi ha portato su per tutta la mattina, è possibile che non si sia accorto? Un momento, non... No, no, aspetta, aspetta, no, non è armato, non è... E che cos'è? Ha dei piatti! Piatti? Ma che succede? Inghietto! State indietro, indietro! Lergo! Lergo! Metti via quella pistola! Che succede? C'è un tipo in fondo al corridoio, non è armato, Per odere ha dei piatti Piatti? Nessuno sa chi è? Sì, Jay... È Jay Porter, è un avvocato, è il mio socio Avvocato? Ehm... Signor Porter? No, un momento, non è il caso No, 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 reggimela, faccio senza Vado, eh? Tutto bene? Ci sono! Comoglia, qui bisogna tirarlo fuori con i lacrimogeni Indietro, indietro, per favore Cristo Possibile? E se io facessi la testugine? Che vuol dire? Beh, io ho questa E tu mi segui a ruota, va bene? Allora, arriva il giudice! Jay, sono io, Arthur! Jay! Jay! Jay, stami a sentire! Jay, stami a sentire! Sotto! Chiedi alco! Non sono pronto! Jay! No! Non sono pronto! No! Lasciatemi! Non sono pronto a difendere questo caso! Non sono pronto! Lasciatemi! Lasciatemi! Ho detto che non sono pronto! Lasciatemi! 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 Lasciatemi!